Casarano vai, io ti seguirò, forse a Casarano griderò. Dateo, Evacuo, Capocchiano, Tonghia, in pacchina dell'Anna, Valentini, Pastore, Cucchiaro, De Lorenzo, Curlo, Schiavone, allenatore signor Gabriele Geretto, Virtus Casarano, Leopizzi, Fazio, Palma, Stentardo, Niccolini, Calabro, Palazzo, Bonaffini, Villa, Cenciarelli, Presicce. Pacchina numero 12, Lazoi, 13, Rollo, 14, De Marco, 15, Serau, 16, Rocco, 17, Continuo, 18, Palumbo, allenatore signor Salvatore Bianchetti, dirige l'incontro il signor Fiore di Barletta, guaduato dai signori Delveggio e Martani di Barletta. Salvatore Bianchetti, dirige l'incontro il signor Fiore di Barletta, guaduato dai signori Delveggio e Martani di Barletta. Salvatore Bianchetti, dirige l'incontro il signor Fiore di Barletta, guaduato dai signori Delveggio e Martani di Barletta, guaduato dai signori Delveggio e Martani di Barletta, guaduato dai signori Delveggio e Martani di Barletta. Salvatore Bianchetti, dirige l'incontro il signor Fiore di Barletta, guaduato dai signori Delveggio e Martani di Barletta, guaduato dai signori Delveggio e Martani di Barletta. Salvatore Bianchetti, dirige l'incontro il signor Fiore di Barletta, guaduato dai signori Delveggio e Martani di Barletta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.